Universal Music presenta Music Man, il supereroe della grande musica! La tua musica è in pericolo? Non preoccuparti! 2000 grandi album a 10 euro! Colleziona i tuoi CD originali! Non riesci più a comprarti un CD? Adesso puoi! 2000 grandi album a 10 euro! Libera la tua voglia di musica! Tutti sono felici con Music Man! Forse non proprio tutti! Cerca Music Man! La grande musica diventa tua!